Firmato il documento che dà attuazione al programma Val Bormida, ritroviamo il fiume. Lunedì 12 luglio a Cortemilia in provincia di Cuneo, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente dell'Unione Montana Altalanga Roberto Bodrito hanno sottoscritto un accordo da 10,7 milioni di euro complessivi tra fondi europei e risorse pubbliche locali. Questi fondi serviranno proprio per una svolta di questo territorio e verranno sicuramente utilizzati soprattutto una serie di servizi, soprattutto legati alla scuola, legati alla sanità, alle attività produttive, ai trasporti. Io quindi credo che è una grandissima svolta, sono somme veramente importanti e abbiamo una grande responsabilità di spenderli bene. Con questi soldi si finanzieranno gli infermieri di comunità, vuol dire che chi starà male non dovrà aspettare di aggravarsi e andare in ospedale ma avrà una persona che andrà a trovarlo a casa. La firma di oggi è importante perché è come aver firmato un assegno da 10,7 milioni di euro per un territorio quindi un territorio come questo che spesso era stato dimenticato dai governi regionali e dai governi nazionali e oggi invece riceve un attestato di considerazione molto importante perché è tangibile. La regione fa la sua parte garantendo attraverso i fondi europei circa i due terzi delle risorse e riconoscendo la bontà del progetto predisposto dall'Unione Montanaltalanga una strategia che coinvolge 33 comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo ed oltre 18.000 abitanti.